Il Presidente Berlusconi sembra un pochettino più concentrato sul Monza e sul matrimonio di sabato che questo di Enzo. Meglio, vuol dire che me ne devo occupare soltanto io di questo processo. Se lo riterremo opportuno, parlo di noi legali, lo riterremo opportuno, certamente vi sarà la massa disponibilità da parte del Presidente Berlusconi a rendere le dichiarazioni che noi riterremo significative al fine di completamento di quella che l'istruttore ha debattimentato. E questo non vuol dire che non possa andare a vedere il Monza.